Cieli sereni, mari poco mossi, aspetti che finiscono per intensificare i viaggi della speranza. Solo nella giornata di oggi sono attesi in Sicilia più di 500 migranti. Le arrivi sull'isola sono cominciati già stamane quando al porto di Trapani ha attraccato la nave Vosestia di Save the Children con a bordo 125 persone, tra cui 5 bimbi e diverse donne incinte e 4 cadaveri. 25 di loro sono minorenni e la maggior parte di essi non accompagnati. A bordo anche la bimba di 15 mesi che viaggiava con la madre poi morta durante la traversata, salvata grazie all'intervento delle altre donne che stavano viaggiando sullo stesso gommone. Come succede sempre più di frequente, molti di essi sono arrivati in stato di shock e con profonde ferite sul corpo. In particolare, almeno 10 hanno riportato gravi ustioni chimiche provocate da acqua miscelata e carburante. Dopo l'arrivo e i primi controlli sanitari, i migranti sono stati condotti all'hotpot di Milo, alle porte del Parco dell'Etna, per le procedure di fotosegnalamento e identificazione, per poi essere trasferiti nei centri di accoglienza per i chiedenti asilo dislocati in tutto il territorio nazionale. Molti racconti agli inquirenti di torture, detenzioni e rapimenti avvenuti soprattutto in Libia e durante la disperata traversata in mare. I profughi sbarcati stamane arrivano tutti da paesi dell'Africa subsahariana, tra cui Niger, Nigeria, Ghana, Togo e Gambia. Attesa anche a Pozzallo, dove in queste ore è diretta la nave Golfo Azzurro della ONG Oberarps, con a bordo 389 persone recuperate nella giornata di ieri durante diverse operazioni di salvataggio a largo del canale di Sicilia. L'arrivo è previsto entro la serata di oggi. La macchina dell'accoglienza per la prima assistenza è già partita.